Diario di bordo del Capitano Iman. Data astrale... data astrale... quanti ne abbiamo oggi? Oggi forse è il giorno buono per comprarti un calendario. Barbie, tu sai la data astrale? Io non sono la Barbie. Ma per me siete tutti uguali. Non so nemmeno cosa sia una data astrale, caro Big Jim. Dannazione. Volevo tanto fare la voce fuori campo col diario di bordo, ma se... Che cacchio è? C'è una chiamata dalla terra di un certo Carletto FX. Carletto? Resto sullo schermo. Ciao ragazzi, sto per iniziare una nuova serie web animata. Quando i Jimboy arriveranno a 300.000 mi piace su Facebook oppure 20.000 iscrizioni al canale YouTube, allora comincerò a sfornare i primi episodi. Nel frattempo vi aspetto qua sulla terra. Tornate indietro. Dai! Passo e chiudo. Coglionazzo, hai dimenticato di dire che ci sono anch'io. Capito, stronzi? Fantastico! Se Carletto FX chiama, bisogna andare. Barbie, invertiamo la rotta. Cos'è che si è rotta? Ha detto 20.000 iscritti? Non ce la farà mai! Abbi fede, la scamorza dei Jimboy scorre ancora potente. Stiamo andando al parco giochi! Stiamo andando al parco giochi! Scusa, ma non avrai mica intenzione di portare anche quella lì. Beh, se giriamo una webserie, qualcosa nel catering dovrà pure esserci. Scusa, ma non avrai mica intenzione di portare anche quella lì.